Assessore Pepe, la Festa Nazionale del Cuoco di Villa Santa Maria rappresenta un appuntamento importante perché l'enogastronomia è una delle eccellenze della nostra regione. Ospitiamo con piacere la Festa Nazionale dei Cuochi grazie alla collaborazione della Federazione e dell'Unioni. A Villa Santa Maria è un luogo per eccellenza dedicato alla cucina, alla buona cucina, alla formazione e informazione grazie all'Istituto di Villa Santa Maria. Domani ci sarà un evento fondamentale per la promozione della nostra economia agricola. Oltre 500 chef provenienti da tutta Italia saranno a Villa Santa Maria per fare festa ma anche per fare informazione e comunicazione circa la nuova cucina italiana. Domani a Villa Santa Maria, questa Festa Nazionale del Cuoco, un appuntamento importante con tanti chef che arriveranno da tutta Italia. È importantissimo anche perché è la prima volta che praticamente vi è la Festa Nazionale del Cuoco e si svolge interamente a Villa Santa Maria. Quindi avremo un'invasione di colleghi nel mio caso ma di chef da tutta Italia e quindi faranno visita a quelli che sono i luoghi anche del nostro santo patrono che è San Francesco Caracciolo. Poi la giornata si svilupperà in due momenti, la mattina con una serie di show cooking di chef stellati all'Istituto Alberghiero e poi nel pomeriggio una processione, una santa messa in onore del santo a cui parteciperanno tantissimi chef.